Ciao ragazzi, qui per la Normal Comics, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, nuova partita con le top class, un po' diversa, perché? Perché l'ultima volta mi hai aperto. A che età non c'è arrivato? Ligeramente male. Vabbè, neanche troppo, però è stato molto molto fortunato e quindi mi è impensato a questa cosa. Dividiamo in quattro mazzetti, ovviamente portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, peschiamo casualmente col dado da una sé chiaramente, due portieri, sei difensori, sei centrocampisti, sei attaccanti e poi, Ale? E poi andrò a distribuire tre card speciali per ciascuno, perché le abbiamo separate alle altre card, perché nella scorsa partita le hanno avuto due rare, Simone, tutto il resto. E che cavolo, dai. Quindi due rare, tre rare, sì sì sì, prese in maniera totalmente casuale da questo mazzetto, quindi non saranno di nessun ruolo specifico, saranno totalmente casuali. Perfetto, bene, bene. Quindi il numero più alto inizio a scegliere. Benissimo, dai Dadino, non mi te la dire. Tre. Tu l'ha tolto, tre sei passato. Eppure stavolta, tre due, stavolta il truccato. Inizi tu a scegliere. Allora, iniziamo, portiere. Allora, portiere. Andiamo ragazzi, vado. Prenderò il portiere numero cinque. Ok, cinque, quindi uno, due, tre, quattro, cinque. E questo è il tuo portiere. Ok, me lo guardo. Portierino mio. Quattro. Il primo di due portieri, lo ricordiamo. Uno, due, tre e quattro. Va bene. Il secondo portiere. Abbiamo soltanto quattro portieri qui, quindi se esce sei, andremo a prendere la due e così via. Vado io. Ed è quattro. Quindi prendo l'ultimo. Va bene. Ok. Scelta dura. Quattro. Quindi prenderai la prima. Perché uno, due, tre e si inizia. E poi ricominciamo. Perfetto. La fase per te con i difensori. Vado io ragazzi. Ed è il numero cinque. Cinque. Ok. ok 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 allora a caso prenderò in maniera completamente casuale ragazzi non stiamo vedendo nulla dimmi un numero ti dico quattro e ora tu mi prendi tipo il diciottesimo quattro no no ho preso il quattro Simo dimmi un numero diciassette e là porta sfortuna di solito applausi ragazzi un like perché fa contare alla lente quattordici ci sono diciassette diciassette vai tu due grazie Simo tu cinque dai ok vai dodici dai scusate per l'ultima infamata tu sei cattivissimo andiamo con l'ultima carta ok tu Simo settordici ah no scusate facciamo sei perfetto e la squadra regà è ufficiale che non so contare sei ecco qui completo ragazzi ci andiamo a spulciare tutte queste carte e poi facciamo la formazione ecco le squadre ragazzi ci siamo allora io ho scelto un bel 4-3-3 equilibrato tranquillo dove hai scelto? un 3-3-4 equilibrato è l'inversa del tuo è l'inversa del tuo è l'esatto gemello peccato che c'è 4 attaccanti attenzione chi parte? Dado? Dado un po' di piatto 5 non farai 6 non farai 6 impossibile 6 era ovvio non c'era neanche da chiederselo inizio io ragazzi fai sembrare le cose fatte apposta e non lo so è un talento incredibile è un talento straordinario con cosa inizi modestamente allora inizio con una difesa leggera difesa leggera? passiamo un po' di ascoltire i suoi attaccanti dai attacco leggero attacco leggero vediamo un po' salà 86 miss è leggero? vinci 86 contro 84 taglie 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 subito per poco subito scegli che fare controllo con un difensore controlli con un difensore controllo con un difensore un difensore speciale forse io controllo con lui 86 contro 84 tutto per Gaetano mannaggia ma chi di 86 versione base? controllo con lui ancora controllo? ma tu è sul controllo e controllo con lui vai 88 contro 85 è una speciale è una speciale è una speciale di Casemiro bella quindi siamo a siamo 3 a 0 mi sa che mi ha questo giro questa volta la partita dovrebbe essere più equilibrata concedetemi un po' di paura difendo con lui difesa con un portiere portiere attacca attacco con lui ok ok 100 100 100 100 ancora vivo ancora vivo dalla sua casa pensione in Alaska non so dove si 100 contro 90 vabbè 3 a 1 vabbè però è stato un giocatore che card fortissimo a 100 in attacco ora uso lui e attacco va bene va bene difendo con lui vediamo un po' difesa 86 contro un bappè 90 vabbè mi ama vabbè mi ama quindi 3 a 2 si sta riequilibrando pare pare di sì e attacco con lui ma no dipenditi e addirittura un cambio chi deve in difesa tu hai sempre un po' più di fortuna oh dai se non sono le carte sceme vabbè non significa no in realtà no mi stavo riprendo un bappè di prima con 90 e 100 prima in attacco difendo con lui difendo comunque con una carta buona difendi con un portiere niente niente 85 Ederson 85 verso Saland 80 89 eppure siamo 3 pari Alessone avrebbe fermato però siamo 3 pari signori mi difendo con lui ok attacco con lui vediamo vediamo un po' eh vabbè Benzema 97 contro 85 ah sono 85 vabbè ma è card base siamo 4 a 3 per presa si che cosa fai attacco attacchi e io e io attacco mi difendo con questa eh punto per Gaetano no quanto 87 contro 86 per un punto per un punto ma che ha fatto il attacco Benzema ancora c'era quanti ne hai cari in the dream 2 più controllo con lui andiamo per il sesto punto 1 2 3 4 contro controllo 92 di Fernandinho contro 85 5 a 4 madonna mia cavolo 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 5 a 4 si sta ribaltando la situazione io mi difendo con lui oh mio dio ok ok cambio oh no non sono attaccato no devo difensore attacco con lui no vediamo un po vediamo un po 85 contro 85 dobbiamo vedere l'overall e vabbè 223 contro 213 di Ciscesni 6 a 4 rivincita mannaccia mannaccia però è stata una partita molto più 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 giusto per vediamo un po vediamo un po cosa vedi vabbè ho Chiesa 80 contro 85 no 7 a 4 vabbè 6 a 4 vittoria per Gaetano partitina allora io ci sono fortunato con il Benzema ma hai avuto 3 Benzema no Benzema speciale sono veramente diciamo che ti ho ribaltato con 3 6 che Mbappé al anno di fila mamma mia il punto più bello raga Kimi che ha 86 di controllo come terzino è fissio pazzesco 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 poi all'erra è stata un'ottima giocata qui su Ciscesni però ti posso dire che ho 3 6 game a più avanti fila mamma mia mi hai arato il punto di Fernandini era il mio con il valore alto me l'hai giocato poco ragazzi top class a noi stanno piacendo un motto fateci sapere se voi le state collezionando fateci sapere se questo video vi è piaciuto con un bel grazie a tutti